Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio SVG di Enrico Mentana per il TG di La7 sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Fratelli d'Italia sale dello 0,2% rispetto alla settimana scorsa ed è al 23,6%. Mentre il PD cresce anch'esso dello 0,2% si porta al 21,8%. La Lega scende dello 0,4% al 14,3% mentre il Movimento 5 Stelle scende dello 0,2% all'11,2%. Azione più Europa, no ma prima c'è Forza Italia che è dato al 7,4% cresce del 4,2%. Azione più Europa al 5,2% perde lo 0,1%. Italia Viva, Italexit, articolo 1% sono attorno al 2%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti.